L'ho fatto io a latti 2, porco dute, porco! Crico! Dov'è? C'è un po' di caccia, c'è un po' di caccia, c'è un po' di caccia... Ma volle che T1 ho rifatto, 27.0! Sì, al termine della sessione. La giuro che non riesco a fare un altro giro, qualcosa sbagliato. Oh, sì! Porca troia, 18.0, porco troia!